Dopo 18 giorni nello spazio, Walter Villadei tocca terra e passa da Milano. Dopo tre settimane trascorse sulla Stazione Spaziale Internazionale, l'astronauto e colonnello dell'aeronautica militare porta a Milano la sua esperienza come pilota della missione AX-3 Voluntas, per cui ci sono voluti 13 anni di addestramento. Villadei ha portato nello spazio uno degli esperimenti che contribuirà ad aprire una nuova frontiera in materia di sicurezza della navigazione spaziale. Lo spazio sta diventando un ambiente sempre più affollato, significa operatori come i privati che si stanno affacciando per utilizzare lo spazio. Questo sostanzialmente significa che il pericolo e l'affollamento aumenteranno nel tempo. Bisogna sapere dove vogliamo e bisogna creare una cornice di sicurezza. Questo è il compito dell'aeronautica militare che lo fa tradizionalmente negli spazi aerei, domani lo farà anche nello spazio propriamente detto. L'esperimento che abbiamo portato è un software che consentiva da bordo e quindi operando ed entrando direttamente nel database reso a disposizione dall'aeronautica ho effettuato delle simulazioni per vedere qual era il comportamento dell'avvicinamento di un detrito alla stazione ed eventualmente misurare questo fattore di rischio. Attualmente tutto questo viene fatto a terra e quindi la stazione è monitorata, osservata e protetta da terra. Un giorno e un domani quando voleremo più lontano queste capacità dovranno essere anche a bordo delle future stazioni spaziali o delle astronavi. E questa è una capacità interessante che va nell'ottica appunto di crescere come capacità di protezione dello spazio. L'astronauta è stato accolto a Milano dal comando della prima regione aerea di Milano che negli anni si sta sempre più specializzando nella medicina aerospaziale. Ci stiamo concentrando su scienze dell'epigenetica e traslazionali. Vogliamo capire come la genetica è modificata in ognuno di noi. Noi nasciamo con un corredo genetico. A seconda di dove abbiamo visto il livello di stress o chi ha volato su certi aerei o no ha reagito e ha modificato il suo genoma, questo permetterà di avere quella che è chiamata medicina traslazionale, cioè vorremmo traslare alla vita di ogni giorno queste conoscenze un po' acquisite nello spazio e un po' dalla ricerca di ogni giorno.